Riccardo Bassan, InterClean, Criscience presente, quali sono le aspettative rispetto a questa fiera, le sensazioni e quali novità portate qui? Beh, indubbiamente le aspettative per la fiera sono quelle di avere una conferma sulla nostra presenza sul mercato e un rafforzamento della nostra immagine. Criscience principalmente è riconosciuta come un'azienda forte nel settore lavaggio tessuti, come leader in Europa e noi ci stiamo creando la nostra immagine o comunque crescendo ogni anno nel mercato della pulizia professionale del settore ORECAM. Quindi abbiamo riscontrato anche gli obiettivi stati raggiunti, nel senso che abbiamo visto una crescita nell'interesse nel marchio, soprattutto grazie anche alle innovazioni che cerchiamo di portare sul mercato, come il nostro lavaggio di carico stoviglie con prodotti solidi o il lavaggio di tessuti con il sistema ad ozono, oltre a presentare tre nuovi prodotti a base di probiotici che hanno riscosso un notevole interesse. Tutto nel rispetto dell'ambiente, comunque cercando di rafforzare il nostro marchio come anche un'azienda chimica ma rispettosa dell'ambiente. Quindi sostenibilità ambientale è la parola d'ordine per noi. È fondamentale, quindi tutte le innovazioni che noi portiamo sul mercato devono essere certificate e colabel. Puntiamo ad avere in tutti i prodotti nuovi questa certificazione che sia a livello europeo riconosciuta, essendo comunque cristalli su un'azienda belga presente in tutta l'Europa, ormai anche nel mondo. E cerchiamo di non lavorare solo localmente ma avere un'immagine riconosciuta internazionale. Il settore Oreca lo chiede sempre di più, le colabel e il verde? Assolutamente. Nel mercato italiano ormai è fondamentale anche per avere un'immagine per quanto riguarda gli appalti pubblici o lavorare anche con vari distributori che cercano sempre di più queste innovazioni e queste certificazioni. Grazie. Prego.